Musica Facciamo questo test in differenti zone d'Europa e anche nel mondo. Abbiamo appena completato una dimostrazione simile in Zambia, proprio con Massi Ferguson. Quello che resta interessante constatare è che tutti sentiamo parlare di pressione, tutti sentiamo parlare dell'utilizzo della corretta pressione e della produttività. Credo sia noi come produttori, sia gli operatori del settore, sia gli agricoltori, vederlo con mano, toccarlo, è qualcosa che non si dimentica più. Credo che dopo aver visto un test del genere, tutti noi tornando a casa, non ci dimenticheremo dell'importanza di selezionare la pressione giusta perché ci rendiamo conto veramente di quant'è, in termini di euro, il vantaggio che possiamo avere sulle lavorazioni. Come diceva prima il vostro collega, non si tratta di una sola lavorazione, ma le operazioni in alta coppia sono frequenti e riguardano più di una. L'altra cosa che volevo aggiungere era che, ovviamente, come diceva Piero all'inizio, la cosa più importante è quella di capire qual è l'efficienza che viene dalla carcassa, cioè dalla capacità del pneumatico di flettere. Ora, noi abbiamo fatto un confronto tra due pneumatici, che sono due pneumatici Trelleborg, quindi mettono in evidenza la capacità di un pneumatico, lasciatemi dire, premium, di alta fascia, di rispondere alla bassa pressione. Quello che abbiamo voluto dimostrare è avere un pneumatico come Trelleborg che ci dà la possibilità di ritornare del nostro investimento facilmente, ma dobbiamo utilizzarlo al massimo delle sue capacità, che ovviamente in fase trattiva vuol dire il minimo della pressione utilizzabile. In questo modo riusciamo ovviamente a ritornare dell'investimento, ma ovviamente a ridurre i costi di esercizio di tutte le operazioni agricole. Quindi è una raccomandazione che noi facciamo, utilizzate il pneumatico Trelleborg, ma utilizzatelo al massimo delle sue capacità per avere il massimo dal rendimento agricolo. Nella giornata di oggi abbiamo portato avanti diverse dimostrazioni in campo. L'obiettivo è quello di concentrarsi e focalizzarsi sulle due caratteristiche fondamentali del pneumatico agricolo. Una è ovviamente legata alla flessibilità del fianco e quindi alla capacità del pneumatico, attraverso l'utilizzo di una bassa pressione, di aumentare l'impronta a terra per garantire maggiore galleggiabilità, maggiore trazione e minor compattamento del suolo. Il secondo aspetto che è importante per il pneumatico agricolo, su cui ci siamo focalizzati, è invece la capacità di avere un disegno battestrada a maggiore efficienza. In particolare l'ultima innovazione Trelleborg, che è la Progressive Traction, ha un doppio rampone che aumenta il grip e aumenta la capacità trattiva, aumentando ovviamente l'efficienza nelle lavorazioni sul campo. La somma di questi due effetti, ossia la maggiore galleggiabilità e la maggiore impronta a terra unita a un maggior efficienza prodotta dalla Progressive Traction garantisce un'efficienza sulle lavorazioni, soprattutto in alta coppia, che può produrre su 200 ettari fino a 1.000-1.500 euro di risparmio per gli agricoltori.